Ci troviamo a Campobello di Licata con il sindaco Gianni Picone. Qui siamo nella Valle delle Pietre Dipinte, meglio conosciuta come il Parco della Divina Commedia. Sindaco, è stato realizzato questo splendido parco anni fa dall'artista di Campobello di Licata Silvio Di Benedetto. Oggi la sua amministrazione intende valorizzarla? Il nostro intento, dall'inizio dell'insediamento, è quello di valorizzare quello che già abbiamo ed è importante. Quindi dopo anni di abbandono abbiamo fatto di tutto per riprenderlo. E quindi ora vogliamo fare quella azione di divulgazione, di far conoscere, perché molti siciliani non conoscono quest'opera incommensurabile, bellissima, nelle interpretazioni, nelle raffigurazioni. Quindi il nostro intento è riprenderla e completarla anche con il finanziamento che è stato già vallato da parte dell'assessorato. Quindi il completamento definitivo del Parco della Divina Commedia. Quindi siccome molti non la conoscono, il nostro intento è promuovere, quindi portare molte persone in questo luogo e quindi conoscere il nostro territorio che è Campobello di Licata. E far conoscere anche l'eccezionalità del nostro territorio che sono prodotti no gastronomici, abbiamo delle aziende vinicole, così anche dei formaggi. Quindi promuovere la territorialità e quindi partire prima di tutto da questa valle della Divina Commedia. Gaetano Avanzato, ci spieghi un po' il percorso di questa Divina Commedia. Sono più di cento pietre dipinte? Sì, queste sono centodieci massi di travertino, questo è tutto travertino siciliano che viene dalla cave di Alcamo, dalla provincia di Trapani. Sono centodieci e sono centodieci murales, come vedete, che raccontano il viaggio di Dante. Perché questo museo all'aperto, che si divide idealmente in tre parti, rispettando quindi le cantiche della Divina Commedia. La prima parte è l'inverno, non so se si può notare che si scende un po', e poi la seconda e la terza parte invece si sale perché inizia il purgatorio e poi il paradiso. Ecco, questo museo, dicevo, racconta il viaggio di Dante attraverso il regno dell'Oltretomba. Per cui questi murales sono la trasposizione pittorica di questo viaggio. Per cui il visitatore che arriva qua visita un museo, visita un'opera d'arte, perché questa è un'opera d'arte. Però fa questo straordinario viaggio anche contemporaneamente, contestualmente, fa questo straordinario viaggio attraverso i regni dell'Oltretomba. Diciamo che ripercorre un po' le orme di Dante in questo viaggio. Quest'opera è stata realizzata fra il 1992 e il 1998 da un artista che, come si vede, è molto bravo. Si chiama Silvio Benedetto. Silvio Benedetto è un italo-argentino, è nato a Buenos Aires lui, però ormai da parecchio tempo, da molti anni, vive e lavora nel nostro paese, in Italia. E così Silvio Benedetto in quest'arco di tempo, dicevo, ha realizzato quest'opera che è la più importante che abbiamo a Campobello di Licata, perché sul piano artistico, qui a Campobello, esistono altre opere, sempre dello stesso artista, dello stesso maestro. Ricordiamo infatti che Campobello di Licata è stata definita città d'arte. Beh, in qualche modo lo è, magari ha questa tendenza a diventarla compiutamente città d'arte, perché è chiaro che se la città d'arte la confrontiamo con altre città d'arte, insomma, però diciamo che c'è questa speranza di farla diventare davvero città d'arte. In qualche modo siamo sulla buona strada, perché Campobello possiede opere artistiche che altri paesi, con tutto il rispetto però, non hanno, o comunque hanno altre cose di altro tipo. Qui invece c'è quest'opera straordinaria, ma poi ci sono anche gli altri murales, quello del municipio, il murales dei bambini, insomma, ci sono altre cose. Abbiamo seguito il percorso dall'inferno, siamo giunti al paradiso. Questa è un'opera che, come abbiamo detto, il sindaco Picone intende ristrutturare, intende nuovamente valorizzare, perché oltre ad avere un'importanza culturale, un'importanza artistica, è importantissima per il turismo. Beh, certo, diciamo che il turismo è poi l'approdo quasi naturale di tutta un'opera di questo tipo, altrimenti non avrebbe nemmeno senso averla, se non un senso squisitamente culturale, basta, che va bene comunque. Però il valore aggiunto di quest'opera è proprio lo sviluppo turistico che questo può avere. Tutte le pietre sono bellissime, tutte le pietre hanno delle particolarità, non possiamo elencarle tutte ovviamente. Qui in paradiso quello che ci colpisce sono questi visi, questi visi che dovrebbero rappresentare dei santi, come San Tommaso alle sue spalle o San Francesco alle mie. Però l'artista ha voluto raffigurare dei personaggi di Campobello. Sì, 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 l'artista ha fatto questa scelta che non solo è in paradiso, ma anche all'inferno, in purgatorio. Cioè la scelta è stata quella di utilizzare come modelli per i personaggi persone del territorio. Un po' per rafforzare questa presenza di Dante, della Divina Commedia, qui nel nostro territorio. Perché storicamente noi non abbiamo prove che Dante sia mai stato in Sicilia. Diciamo che ce l'abbiamo portato noi.